Siamo qui davanti la Sapienza, oggi il giorno del test d'ingresso a medicina, perché state manifestando? Noi siamo qui perché chiaramente le barriere all'accesso del numero chiuso sono una cosa ingiusta e sono una cosa evidentemente assurda dopo mesi che vediamo che il nostro paese è in emergenza sanitaria, che vediamo che mancano medici, che soprattutto mancano specialisti, hanno chiuso gli ospedali negli anni, tanto è stato tagliato la sanità e quindi evidentemente è un comparto in cui bisogna investire. Per investire in sanità, per essere pronti anche a rispondere alle emergenze, la prima risorsa, la prima difesa anche è la formazione evidentemente, quindi la possibilità di formare più medici, questo vuol dire abolire il numero chiuso e anche dare fondi all'università e la possibilità di avere evidentemente più borse di specializzazione. Nelle prossime settimane arriveranno dei fondi dall'Europa e una delle priorità deve essere necessariamente investire nell'università per far fronte all'emergenza. Però sappiamo che il problema in realtà non è la mancanza di medici quanto la mancanza di specialisti, sono le borse di specializzazione appunto che sono inferiori rispetto al numero di laureati, quindi un filtro in qualche modo secondo voi non è necessario per evitare che questo problema aumenti? Guarda io penso che le cose dovrebbero andare di pari passo, nel senso che sicuramente c'è il tema delle specializzazioni che oggi è allucinante, nel senso che chiaramente ci sono persone che fanno sei anni appunto di medicina e poi in questo momento non hanno un futuro e spesso devono andare all'estero poi per realizzare appunto la possibilità di diventare medici. È anche vero che le stime dicono che nei prossimi anni mancheranno 30.000, 40.000, 50.000 professionisti della salute in generale. Questo significa che se è vero che bisogna abolire l'imbuto formativo tra la laurea e la specializzazione è anche necessario avere una prospettiva di lungo periodo, quindi più persone fin dall'università per poi arrivare anche a un numero di specialisti il più alto possibile. Questo per noi non significa preferire una cosa o l'altra, bisogna fare tutte e due le cose, bisogna avere una programmazione che non sia appunto come quella che abbiamo visto che è stata fallimentare e che ha visto appunto la sanità collassare negli scorsi mesi.